Si è conclusa al meglio la prima serata del nostro evento, la Notte dei Rituali Magici. Una serata davvero positiva che ha coinvolto tante famiglie che sono venute qui a Colobraro per poter godere delle avventure di Harry Potter che ha visto come protagonista l'evento di ieri sera insieme naturalmente al percorso emozionale che si dipana all'interno delle stanze dell'ex convento francescano. Stasera, sabato, replichiamo invece il nostro spettacolo estivo, sogno di una notte a quel paese seppur in versione rivisitata, in versione statica. E domani sera invece il gran finale nuovamente con avventure di magia che coinvolgeranno di nuovo tanti ragazzi, tante famiglie e poi naturalmente la chiusura in serata con il DJ set, quindi tanto divertimento e tanta festa qui a Colobraro in questo weekend di giugno.